Ben ritrovati, questo è un numero nuovo di 45 giri che cerca di stare ovviamente sull'attualità, come prova a fare quotidianamente, ma è un'attualità legata al mondo del lavoro più che politica, più che di colore, più che di cultura, più che d'altro, perché insomma se ripresa deve esserci in questo territorio dovrebbe ripartire proprio dal mondo del lavoro qualche eccezione, poche, ma qualche eccezione nelle nostre zone c'è, per fortuna, e noi proveremo a capire come si può, non dico uscire dalla crisi, ma combatterla e magari ottenere anche ottimi riscontri ospitando uno dei migliori industriali della nostra zona, voglio ringraziarlo Piero Faraone per aver accettato il nostro invito, grazie per essere nostro ospite. Le dicevo prima dell'intervista di iniziare questa chiacchierata che, insomma, io Faraone, non essendo più un giovane di primissimo pelo, Faraone la ricordo da sempre, non ho mai avuto il piacere di conoscerla, ma come nome, come impresa, come industria la conosco da sempre. Non è un caso che nel 1969, quindi oltre 40 anni fa, iniziava questa storia e iniziava in un locale di 80 metri quadri, come tutte le belle storie. Lei si era assente di ripercorrere un po' alcune di queste tappe? Diciamo che all'epoca ero piccolo, perché mio fratello Sabatino partì nel 1969 con questa avventura, in un piccolo laboratorio per la produzione di serramenti in alluminio. E da lì man mano si è fatto un certo percorso, diciamo, quindi la trasformazione tra una famiglia di agricoltori, che mio padre è agricoltore e io da piccolo annaffia i pomodori, ha una trasformazione, diciamo, attuale, sicuramente in grossa parte, è dovuta a mio fratello Sabatino, che nel 1969 appunto è partito con l'azienda di serramenti in alluminio, che poi man mano si è trasformato in industria, in un giro di 4-5 anni già è passato da un laboratorio. Sì, da 80 metri nel 1973 ci fu una superficie di 2000 metri a disposizione. Esatto, già nel 1973 ci fu una superficie con 2000 metri a disposizione, appunto il nuovo stabilimento lì al Salinello, e poi man mano un'escalation che ci ha portato sempre ad andare abbastanza bene. Sono stati diversi periodi di crisi, è stata la crisi dell'84 del settore della costruzione, la crisi del 94 del corte in Gendopoli, più o meno attraversata nel migliore dei modi, fino ad arrivare ai giorni d'oggi. Lei cosa ricorda della nascita della Seva, che nel 1976, io sto vedendo un progressivo aumento di crescita, che viaggiava in 3-4 anni, a step di 3-4 anni. La Seva era un'idea che mio fratello aveva avuto di coinvolgere dei suoi primi collaboratori, dei collaboratori per lui importanti, che avevano partecipato. Primo operaio, primo geometra, primo ragioniere. Esatto, bravo. Messe assieme per fare un'azienda che si doveva occupare di lavori piccoli, questo era il motivo, era lo scopo della Seva, che poi oggi esiste, ha avuto un percorso a sé, che è uscita dal nostro gruppo all'incirca nel 1996-97 circa. Quindi ne ha fatto parte per 5 lustri, 6 lustri. Ne ha fatto parte per diversi anni e ha avuto un suo percorso. Quindi anche lì, comunque, possiamo vedere nell'elemento della Seva, se vogliamo, lo spirito nostro di cercare di coinvolgere nel miglior modo possibile i collaboratori. Cioè, quindi, comunque, già dall'inizio, secondo me, la nostra forza è stata sempre quella sulle persone. Cioè, puntare alla risorsa umana, puntare al coinvolgimento. Io non ho mai visto personalmente il dipendente come un costo, ma come una risorsa. Una risorsa da utilizzare in maniera più intelligente possibile, mettendolo a proprio agio, mettendolo in linea con le predisposizioni naturali, con le proprie capacità per poter dare il meglio di se stessi. Io credo che siate in pochi, però, ad avere questa grande qualità, perché ritengo nella mia esperienza lavorativa, in altro campo, che una delle cose più difficili da mettere in atto per un imprenditore, per un industriale, sia proprio quella di saper delegare, di saper demandare, di dare fiducia. Ovviamente a chi merita. Ma lo fate, lo fanno in pochi. Ma, guardi, ora, non so, io penso che sia un elemento determinante. Sia un elemento determinante sia per far sì che noi riusciamo ad avere una vita dignitosa. Perché avere una vita in cui puoi solo lavorare, perché devi fare tutto in prima persona, sinceramente, insomma, non so che gloria possa avere. Non so, però... E poi, insomma, il coinvolgimento dà più soddisfazione. Certo, tante volte gli imprenditori pensiamo che sia più importante un macchinario ipertecnologico, moderno, che ci faccia abbattere i costi, perché c'è sempre questa fissa, la ricerca, abbattere il costo, senza pensare invece all'ottimizzazione del profitto. Che magari non è quella di vendere una cosa che costa poco, ma che costa tanto e pochi siamo a saperlo fare. Lei l'ha sempre vista così, oppure col passare degli anni acquisendo esperienze ha consolidato quella che magari poteva essere una sua idea? Ma io ritengo che sia proprio una radice della nostra famiglia, che viene appunto dalla civiltà condadina, che io amo molto. Che è un po' quello del relazionare, del non creare quella differenza tra quello che è il capo e quello che possa essere. Cioè una voglia di star bene assieme agli altri, che man mano ha portato sempre ad avere questo tipo di... Non c'è stato mai questo atteggiamento, secondo me, presuntuoso all'interno della nostra famiglia. Una prima chiave di volta del vostro gruppo è stato il 1978, quando, sembrerà magari banale per quelli che non vengono dal vostro mondo, quindi per me, iniziò la costruzione e la realizzazione delle scale in alluminio? Sì, diciamo che lì ci sono stati due fattori. Paradossalmente uno è estremamente negativo e un altro positivo. Il negativo fu che mio fratello fece una fornitura di finestre in alluminio ad un signore di Mantua che non gli diede i soldi e gli diede delle scale, in cambio, perché non ne aveva. E disse, vabbè, portiamolo dentro, qualcosa ci faremo, meglio di niente. E di positivo c'era che noi avevamo un po' di pianto d'olivo che dovevamo andare a raccogliere per la... E quindi? E quindi... Quelle scale servivano. Le scale servivano, ma poi ne avevamo anche costruite qualcosa per qualcuno per conto nostro, e quelle scale servivano per questo, insomma. Ecco, mio fratello aveva avuto l'induzione, perché è stata sua, all'epoca c'avevo 17 anni, 18 anni, aveva stata sua l'induzione di mettersi a fabbricare le scale in alluminio, come anche degli stendi panni. In parte anche... Voi guardava molto la Germania, no? Comunque ai paesi più evoluti, andava lì a fare le fiere, le cose, e diceva, vabbè, se lì c'è, qui non c'è, ma a mano arriva, no? Comunque c'era questa voglia di fare e siamo partiti con questa avventura. Perché dite che dieci anni dopo, nel vostro sito, la forte crescita del gruppo nasce con il rivoluzionario sistema Solaria? Allora, Solaria è un prodotto invece che appartiene... Perché oggi noi viviamo due realtà industriali diverse. La faraona è la faraona industria. Una che riguarda l'industria del serramento, se così vogliamo dire, comunque l'architettura trasparente, il palazzo di vetro, eccetera, e l'altra riguarda l'attrezzatura per lavorare in quota, quindi le tecnologie del lavoro in quota. Solaria è un prodotto che appartiene alla tecnologia del serramento ed era un prodotto estremamente innovativo perché era un prodotto, una facciata definita ventilata, cioè vuol dire che il vetro, c'era tra un vetro esterno e un vetro interno e in mezzo passava dell'aria e questa aria, in funzione al cambio della temperatura esterna, permetteva di avere del caldo all'interno e avere del fresco. Era una tecnologia, diciamo, innovativa a tutto questo aspetto. E siete stati super innovativi nel 2004, quando a Bologna, al SAI di Bologna, vi presentaste con una prima scala in acciaio a vetro stilizzata da un architetto, peraltro. Allora, sì, allora, quello lì è sembra... Vuol dire che il mondo si aprì anche all'Europa, no? Lì è stata la straordinaria capacità di, sembra mio fratello, di riconvertirsi completamente dopo una parte della chiusura dell'azienda del serramento in alluminio nell'andare sulla tecnologia del vetro, l'architettura trasparente a vetro e acciaio, che ha permesso di poter appunto dare una grossa innovazione. E caratterizzarvi, soprattutto. Caratterizzarvi, sì. Su quel settore è estremamente importante per la cosa, che è quello dell'architettura trasparente, di cui io personalmente però non ne me ne occupo, quindi dovremmo rientrovistare un po' più mio fratello. Lo faremo magari in prospettiva. Per farci la prossima volta, in modo che lui possa approfondire, perché direi, io lo vivo dall'esterno, questa cosa. Noi parleremo della faraona industria S.p.a. fra qualche istante. Mi ero appuntato due date, che sono purtroppo date storiche per l'Italia, l'84 e il 94. Vi ho parlato giustamente della crisi dell'84, ha fatto riferimento a Tangentopoli. E quella è un'altra cosa bellissima. Ecco, lì voi come vi siete interfacciati con il mercato, che era il vostro mercato? Allora, l'84 e il 94 sono stati due anni, soprattutto per la divisione del serramento, molto tristi, in cui ci sono state riduzioni, in cui ci sono state addirittura chiusure di parti di stabilimenti. Chiaramente si trovi a subire degli eventi che sono molto più grossi di te. Inevitabili. Inevitabili. Inevitabili, insomma, al 94 si è arrivata a subire una problematica collegata a Tangentopoli con una metà dei nostri clienti in galera e quindi questi impagavano. Era abbastanza cosa. Però lì la tempera, che proviene anche un po' dalla campagna, mio fratello ha sempre rialzato la testa e quindi in qualche modo dice c'è questo problema, ok, vediamo di superarlo e andiamo oltre. E dopo si è più forti di prima. Cioè in qualche modo quello di vivere, e questo secondo me me l'ha insegnato moltissimo, lui ha 17 anni più di me, quindi in qualche modo... È un po' più grande. C'è un po', no? È quasi... Quasi una generazione di differenze. È quasi una generazione. E quindi lui ha sempre rialzato che da una sconfitta si ha un'esperienza. Quindi è un'esperienza per poter ripartire, per poter fare, per poter fare meglio. E se oggi noi, in questo periodo di forte crisi che c'è stata, e sicuramente l'abbiamo subita in maniera nettamente inferiore rispetto a precedenti situazioni, grazie proprio da una parte a questo insegnamento e a quelle esperienze che ci hanno portato a... Lei mi ha ricordato che ha un fratello che è stato un po' anche la sua guida di 17 anni più grande, quindi lo abbiamo già sottolineato quasi di una generazione diversa. Però tutti e due avete un comune denominatore, che è la vostra storia familiare. Sì, certo. Che viene da un'estrazione contadina. Quanto ritiene sia stato importante invece vivere di certi valori, di certe situazioni che forse, diciamocelo francamente, oggi non esistono più? Determinanti. Come dicevo prima, secondo me sono stati determinanti in quanto ci hanno permesso di poter tenere sempre presente che sì esiste l'innovazione, ma esiste la tradizione, esiste il rispetto, esiste lo scambio. Io non mi ricordo che da piccolo nella campagna non ci stavano gli operai, ci stavano lo scambio aiuto. Mio padre diceva vabbè oggi andiamo ad alare da quello, domani andiamo da quello. Quindi c'era questo concetto di connessione di persone che cercavano con molto poco di fare tanto. Mi sembra di ricordare un po' la storia con il cliente di Mantua che non pagava e che dava in cambio le scale. Esatto. E' un concetto di... E allora questo in qualche modo ha portato anche a dire no vabbè, se c'è un problema cerchiamo di parlare, cerchiamo di risolverlo. Cioè gli avvocati cerchiamo di fare il lavoro il meno possibile perché quelli lavorano saranno estremamente contenti ma alla fine questo risolviamo. Quindi questa logica del buonsenso che in qualche modo cerchiamo di poi chiaramente applicato magari che ne so con delle tecniche di psicologia o dei corsi di formazioni che magari si vanno a fare, la voglia di sapere, di conoscere, cioè ci permette di... Senta, il fatto che la vostra azienda vada controcorrente oggi in un momento nel quale insomma stanno quasi tutti in difficoltà qualcuno in serie difficoltà qualcuno, tanti, troppi purtroppo cessano anche le attività voi fate registrare un incremento di fatturato importante credo di ricordare in un comunicato stampa del 14-15% che è un dato importante è un trend controcorrente che poi anche l'anno scorso avevamo fatto un più 8 quindi si viene da una serie di... da una crisi lunga e da incrementi di fatturato dal più 8 al più 15 negli ultimi due anni il segreto è solo l'innovazione sono solo questi valori o c'è dell'altro? Ah, è un mix è un mix di elementi non esiste vede nella formula 1 tra chi fa primo e chi fa ultimo sarà tre minuti di differenza però questi tre minuti significa un mondo e questi tre minuti si ottengono delle prestazioni o delle altre se ognuno nel suo comparto nel suo settore nella sua cosa dà il massimo e cerca di fare il meglio che può quindi vuol dire che in un'azienda se si va bene si va bene grazie al fatto che chiaramente chi magari ha una visione strategica cerca di vedere l'innovazione in modo che cerca di guidare magari l'azienda in un settore più redditizio in un terreno più fertile cioè se io semino in un terreno arido non raccolgo nulla se cerco di creare puoi però cercare di avere il meglio possibile per ogni cosa che si va a fare e quindi ti porta ad avere l'eccellenza le persone sono un elemento fondamentale per avere l'eccellenza certo non tutti riesce a coinvolgere non tutti magari si è però avere una buona parte di è estremamente importante quindi l'innovazione l'investimento crederci se non ci credi è inutile che ti metti a non puoi partire dal presupposto che ogni anno voglio avere un dividendo del 50% noi già ci abbiamo gli utili che le aziende fanno che sono poche il 65% bene o male se ne vanno in tasse perché non è vero che abbiamo il 65% il 70% ogni anno perché tra i costi indietraibili e quant'altro più o meno si va a finire se quella mi porto là quello che rimane se lo porti a casa perché vuoi fare la vita da un babbo poi è chiaro che non hai i soldi da investire non cresci non cresci non innovi devi partire dal presupposto che sui 10 progetti che portano avanti è normale che sei in africa o una quattro se ti vanno bene devi essere contento e quindi così non è passato inosservato quello che mi diceva qualche istante fa non è vero che basta il 50% per rispondere allo Stato forse ci vuole il 65 no ci vuole il 65 o addirittura il 70% ma ci rendiamo conto che su 1000 euro di fatturato io 700 ne restituisco e nonostante questo ottengo buoni risultati guardi certo se noi potessimo vivere diversi nostri clienti che voi ci vengono a trovare vedono la nostra realtà ci dicono ma un'azienda così dislocata in Svizzera potreste volare dico so però io ogni mattina quando mi alzo mi piace vedere Gran Zassi tagli mi piace vedere il mare non ha mai pensato le persone che stanno qui vivono di devocalizzarla l'azienda mi dica la verità ci ha pensato una volta se io potessi prendere tutte le persone ogni mattina caricarle su una grande aerospaziale e portarle ogni mattina a lavorare lo farei a Turigo o lì dove portare in Roma perché andrei in un posto migliore non peggiore e poi la sera portarle a casa lo farei volentieri ma questo non è possibile quindi come fa quindi lei rimane vincolato ai valori del rispetto che ha per il suo personale sì sì indubbiamente ma poi l'imprenditore non può essere uno che predica deve essere uno che fa cioè un sarto guardi lei non è un imprenditore normale glielo dico che ne ha conosciuti di imprenditori un sarto gli presenti una stoffa e lui deve essere bravo a fare il vestito con quella stoffa che ha inutile che si lamenti che va cercando sempre la stoffa di cashmere intanto cuciti questa e vedi di poter fare qualcosa dopo man mano arriverà il meglio magari arrivi al cashmere magari ci arrivi però se ogni volta aspetti che sicuramente non ti muovi e questa è un po' la cosa avere idee l'idea il mondo non si vive non lo muovi con i capitali il mondo lo muovi con le idee più idee ci sono più ne metti in campo e più possibilità haidi in questo i media hanno un ruolo dirastante perché i media non creano uno sviluppo di idee ma creano l'appiattimento del popolo e creano anche un terrorismo del popolo perché del bene non si parla mai si parla solo del male io sto provando a parlare del bene no no in effetti su questo sto provando a parlare del bene e io in questo la ringrazio in effetti invito a Cettore Lendieri perché è giusto che si debba anche a parlare del bene certo non puoi parlare del bene senza considerare quanto male c'è mi stavo chiedendo chi non chi non ha idee chi ha idee ma non ha la forza per metterle in pratica perché purtroppo ci sono anche situazioni di questo tipo e non sto parlando ancora del mondo artigiano sto parlando ancora del mondo potenzialmente industriale lei cosa si sente di dire cioè io avrei qualche buona idea ma non ho la possibilità per metterla in pratica ecco in situazioni di questo tipo un imprenditore che ci è riuscito cosa dice? dice che devi provare tutti i modi per possibili immaginabili per metterli in pratica partendo dal presupposto che difficoltà esistono esistono i fallimenti appartengono alla vita è normale e un imprenditore deve partire dal presupposto che il fallimento fa parte delle regole del gioco cioè io oggi noi andiamo bene perfetto ma ciò non esclude che con domani possiamo andare diversamente bene perché se non va domani guardi che non succederà mai però negli Stati Uniti avere una azienda fallita alle spalle non è la fine del mondo perché come diceva ecco purtroppo può succedere uno partire dal presupposto che se credi in qualcosa devi portare avanti in tutti i modi possibili ci credi fai fai il mercatino io mi ricordo andavo a portare le scale da vendere nei mercati agricoli ci credevo di vendere quel prodotto lì caricavo nel camion in giro e mi portavo il prodotto a vendere quando andavo in giro a vendere le scale nessuna grande catena mi comprava nessun rivenditore dice ma che questi costano troppi benissimo andavo dal contadino io la vendevo facevo il mercato cioè ci credi quasi il porta a porta certo ci credi lo fai e vai noi oggi abbiamo abbandonato completamente la grande distribuzione perché non ci crediamo è un cliente importantissimo però io abbiamo detto basta perché se io devo lavorare senza avere quella marginalità o senza poter avere quella insomma quello spazio economico giusto giusto utile e senza avere quella non mi interessa benissimo ho messo a rischio una grossa fetta di fatturato pensando a qualcos'altro cioè credi in qualcosa devi portare avanti non ti devi adeguare non è perché tutti vanno al mare devi andare al mare se ti piace la montagna vattene in montagna abbiamo 50 secondi prima di uno stop commerciale le posso perché poi non ci torneremo sui numeri chiedere i numeri del gruppo non del gruppo dell'azienda della quale lei è il leader faraone industria S.P.A. allora noi siamo sui 13 milioni di euro quest'anno nel 2014 adesso abbiamo il 2015 che deve venire e quindi perché per noi ogni esercizio chiuso poi dobbiamo pensare al futuro abbiamo due stabilimenti uno oltre a quello italiano abbiamo uno in Polonia e uno in Siviglia in Spagna per le produzioni locali essenzialmente per avere una migliore presenza nei mercati locali e facciamo questo fatturato qui attualmente l'esportazione ci conta per il 55% e il 45% del mercato interno pensavo percentuali diverse a vantaggio dell'esportazione quindi siamo più o meno su percentuali avevamo dei vantaggi prima sul mercato interno che invece adesso è andato a vantaggio dell'esportazione e su questa riflessione da questa riflessione ripartiremo fra pochissimo dopo un brevissimo stop commerciale seconda parte di intervista in questo 45 giri a Piero Faraone team leader della Faraone Industrie SPA fra poco fra qualche minuto grazie al supporto della regia che oggi è coordinata da Gianluca Izzoni andremo anche a visitare il sito di questa industria ma mi piace ripartire da dove ci eravamo lasciati prima dello stop commerciale oggi 2014 circa 13 milioni di fatturato il 55% di questo fatturato viene dagli stabilimenti che sono allocati dai mercati esteri Polonia e Spagna particolarmente no lì è solo produzione no produzione e vendita però noi facendo 100 il nostro totale business tra la produzione che facciamo in Italia e quella che facciamo in Italia perché sono dei prodotti che da Italia mandiamo e viceversa dibatti mercato e viceversa il 55% del nostro totale business è orientato al mercato estero e il 45% è orientato al mercato estero però mi diceva si è un po' invertito il trend sì questo che significato ha? questo ha un significato che in qualche modo in Italia avendo una inevitabilmente oggi noi in Italia abbiamo una domanda minore e quindi in qualche modo abbiamo dovuto compensare con dei mercati esteri in quanto tempo siete riusciti a mettere in atto il progetto? dall'insediamento industriale ma noi da sempre praticamente abbiamo avuto una sensibilità verso i mercati esteri per esempio la nostra presenza in Polonia ma non per produrre per rimandare in Italia ma per il mercato polacco est Europa risale al 94% la nostra prima presenza in Spagna sempre con una produzione locale risale al 96% 97% ma siete stati lungimiranti o era quello il momento per guardare anche al mercato europeo? siamo stati non penso che sia un fattore di lungimiranza è più un fattore di dire vabbè cerchiamo di cogliere l'opportunità che il mondo ci offre oggi indubbiamente abbiamo una grossa minaccia in Italia ma non abbiamo mai avuto come in questo periodo la libertà di poter andare ovunque e quindi il mondo esiste non possiamo dobbiamo andare e secondo me questo sarà anche quello l'elemento che farà ritornare e risalire l'Italia perché tanto più noi riusciamo o aziende come le nostre che ce ne sono tantissime perché non è che insomma veramente solo che appunto si parla meno delle cose che vanno bene allora a volte scopre però ce ne sono tante e magari andando a vendere in altri mercati sviluppando idee nuove ricreano benessere nel territorio e ricreano praticamente l'equilibrio che in qualche modo prima avevamo basato principalmente nel mondo dell'edilizia che era un'economia fasulla per i risultati che ha fatto registrare ma sì perché se oggi noi abbiamo una è vero che si allontanano tutti oggi dall'edilizia oggi da molti anni oggi in particolare oggi è scomparsa perché se abbiamo un numero elevatissimo di immobili invenduti abbiamo un crollo dell'immobile stesso come valore ce l'è dato dal fatto che sono stati costruiti troppi quindi vuol dire che noi per 5-6 anni abbiamo avuto un'economia fasulla cioè un'economia perché andava a soddisfare un bisogno che non c'era una politica economica sbagliata va bene voi il rapporto con la politica come lo vivete da cittadini e basta o da imprenditori da cittadini e basta cioè noi non non tra l'altro cerchiamo di non lavorare col pubblico quindi non è un settore che vi ammaria insomma se noi ci lavoriamo su aziende siete costretti a farlo su aziende diciamo a capitale pubblico però con grossa specialistica con prodotti estremamente specialistici mirati che noi lavoriamo per le ferrovie dello Stato lavoriamo per la Bretanardi lavoriamo per per delle società diciamo di questo ma non le gare pubbliche ne le facciamo adesso daremo un'occhiata a quello che è il vostro sito perché io mi sono soffermato da profano del settore su due link quello relativo alla produzione ovviamente questo è il sito ma anche quello relativo al team cioè la prima cosa che sono andato a vedere io vivo un po' di situazioni assolutamente mie è il team perché glielo ho detto prima ritengo che avendo visto Gianluca adesso scorrerà questa pagina e scopriremo una miriade di persone per una struttura importante ma che sinceramente non pensavo potesse mettere sul proprio sito tanta professionalità questo credo che serva esclusivamente a supportare con i fatti quello che lei mi diceva prima perché se ci sono capi settore responsabili del marketing e quant'altro commerciali vendita eccetera evidentemente il segreto come lei ha già posto in essere sta proprio qui noi mettiamo la nostra faccia tutti quanti in quello che facciamo vale per me e vale per tutte le persone che lavorano in maniera a stretto contatto e questo esiste sia nel sito italiano ma esiste anche nel sito polacco e esiste anche nel sito spagnolo e lì come riuscite a coordinarvi? ognuno ha il suo amministratore che gestisce la sua società in maniera indipendente pensando al profitto di quella società con una strategia diciamo che abbiamo unica in termini di realizzazione prodotto sviluppo prodotto innovazione però l'amministratore delegato della nostra società polacca che tra l'altro è un ragazzo che è entrato da noi all'età di 15 anni come apprendista e di mociano vive oramai in polonia da parecchi anni e insomma è lì questa casa lì sta abito lì ha responsabile del suo bilancio e vende a noi se gli conviene se no che vende a qualche altra parte senza che c'è questo tipo di è come noi uguale stessa cosa vale anche per la Spagna che tra l'altro è un'azienda che gestisce mio figlio da un paio d'anni e che ha un suo bilancio e ha una sua senta le va di parlare del costo del lavoro e della situazione di oggi per la quale la voce costo del lavoro diventa quella impossibile da sostenere allora il costo del lavoro prima di tutto abbiamo partito al presupposto che sia stata una perdita del potere d'acquisto pazzesco negli ultimi dieci anni quindi ci sono sicuramente meno soldi in giro perché le persone ne hanno meno da poter spendere in quanto il rapporto che c'è stato del costo della vita non è stato di pari livello l'ingremento dei salari questo è un dato di fatto non l'è stato perché perché chiaramente se noi andiamo a incrementare i salari andiamo a finire fuori parametro oggi un lavoratore tedesco non è vero che costi più un lavoratore italiano tra uno poche le differenze ma sicuramente se andiamo a vedere il costo della vita in Germania proporzionato eccetera il lavoratore tedesco ha molti più soldi di noi perché perché il livello di trattenute che ha sono molto meno o in Danimarca noi abbiamo avuto un periodo di tempo un'attività commerciale in Danimarca vi vedevo che il costo di un magazziniere a Copenaghen costava uguale più o meno di un costo nostro solo che al magazziniere danese andava a 2000 euro in tasca al nostro ne va a 1100 perché perché per ognuno che lavora in Italia ci stanno tre che non fa nulla e che dobbiamo mantenere minimo e questo è il problema e qui si fa riferimento ovviamente alle casse integrazione ma non solo a quello perché non è che io dico che non può esistere l'aspetto sociale perché noi non possiamo vivere in un paese dove cioè non hai assolutamente dobbiamo avere equilibrio il problema è produrre è un conto è produrre c'è un conto è lavorare e un conto è produrre noi sicuramente abbiamo degli sprechi nelle ottimizzazioni penso in maggior parte nel pubblico che nel privato che fanno paura e che noi dobbiamo sostenere se vai in un ufficio pubblico e vedi che automaticamente sono quattro persone in una stanza tre stanno su facebook e uno sta col telefonino e bussi quattro volte per cercare di entrare per farti dire qualcosa e nessuno ti risponde quelli noi li stiamo pagando sì ecco questo è il problema nostro senta per no è uno dei grandi problemi quindi il lavoratore è uno poveraccio che si fa un mazzo tanto e pia pochi soldi perché nel suo lavoro che produce che realmente mette in atto come produzione deve compensare tanti altri che fanno sepporcare lei ha rappresentanze sindacali in azienda sì perché me lo dice così è perché perché vede anche lì abbiamo noi abbiamo una rappresentante sindacale per carità su 81 persone stanno 10 tessere insomma quindi è abbastanza poco più del 10% ecco però con il sindacato stesso è un grosso problema perché non riesce a poter ragionare in modo attuale è un po' come se io come azienda producessi ancora i prodotti che facevano nel 1980 al 1990 non si sono aggiornati non si sono aggiornati e quindi hai a che fare come non si è aggiornato tutto il resto delle istituzioni e quindi hai a che fare con dei linguaggi diversi in più secondo me a volte riflettono a volte di un film di Alberto Sordi che diceva fin qui c'è guerra c'è speranza e certo se c'è guerra c'è possibilità di venderle armi non lui vendeva armi quindi è normale lei che faceva così ecco certe strutture sociali a volte giocano anche su queste cose non va bene non c'è stato un adeguamento per quello che sta verificando lei con i tempi attuali dove effettivamente si corre il rischio di andare a casa oggi noi se vogliamo avere un'impresa efficiente dobbiamo partire dal presupposto che l'unico elemento che ci lo permette è la meritocrazia eh sì perché se noi non mettiamo in atto un sistema meritocratico non può esserci un'azienda vincente nel mondo in un mondo che viaggia per meritocrazia quindi noi dobbiamo utilizzare le nostre intelligenze nel mezzo in miglior modo e creare un sistema meritocratico il sindacato è contro questo quindi come fai a ragionare perché dice che è contro perché cioè prende le difese a prescindere perché prende le difese a prescindere perché comunque solitamente negli accordi vuole avere sempre delle situazioni di natura di eguaglianza ma le eguaglianze e lei dice le eguaglianze se sono uguali se non sono uguali se abbiamo lo stesso tipo di benissimo se non è io non è che voglio avere all'interno dell'azienda versioni serie A serie B serie C io li vorrei tutti di serie A però devo fare in modo che ci arrivano e non sono tutti di serie A purtroppo cioè questo è inevitabile ma è normale che sia così quindi come puoi con questo cioè se io voglio andare a Milano l'altro va a Bari quindi inevitabilmente non mi ci posso incontrare le grandi industrie le grandi aziende hanno normalmente anche buoni rapporti con il mondo della comunicazione lei stessa in questa chiacchierata ci ha detto quanto importante possa essere il ruolo di una sana comunicazione perché la vostra azienda al di là dell'informazione standard no internet e quant'altro comunica poco se non ho avuto il piacere proprio di recente di leggere un comunicato stampa diramato dalla ditta Faraoni ma perché noi essenzialmente pensiamo ogni giorno a lavorare per il lavoro per noi non è che anche fare comunicazione essere posizionato sul territorio è importante però per noi significa andare a soddisfare dei bisogni del cliente che deve salire in quota fare determinate cose quindi siamo focalizzati sul fare e sul fare materiale sul fare politico poco posso permettermi di dirle invece che se lei oggi avrà una sola persona in più che magari seguirà questa intervista e che la vedrà in televisione potrà dire ah finalmente ho conosciuto Faraone perché è vero anche l'esatto opposto ma in effetti è una nostra lacuna nel vostro standard ipotizzare la comunicazione come strumento magari di corollario all'attività che è primaria ci mancherebbe io credo che sia buona cosa no no ma in effetti io sono d'accordo con lei in effetti sono qui la ringrazio dell'invito perché ritengo io ringrazio lei sia una lacuna che tante imprese sane che ogni mattina si alzano gli imprenditori che prendono la macchina vanno viaggiano eccetera magari ecco curano poco questo aspetto e a volte correndo i rischi di scomparire come se non ci fossero esatto e invece dovremmo curarlo meglio su questo sono pienamente d'accordo se lei è d'accordo io l'ultima parte di questa chiacchierata vorrei dedicarla all'immediato futuro perché abbiamo detto di un 2013 soddisfacente di un 2014 ancora più soddisfacente qua cambiano i governi adesso ce n'è uno che sta tenendo bene o male sta tenendo cambia il presidente della repubblica si parla di una leggera ripresa o di una ipotetica ripresina lei come lo vede il 2015 e non parlo solo della sua azienda della quale pure parleremo in generale ma io penso che in generale vivremo delle situazioni sempre più paradossali dove ci saranno delle situazioni che funzionano e delle situazioni che andranno nel totale disastro perché è così oggi noi chi tende di rivivere un mercato o un modo di fare sperando che torni qualcosa che esisteva prima del 2008 perché prima del 2008 non tornerà più c'è il mondo è andato è diverso oggi c'è un qualcosa totalmente diverso sul mercato una necessità diversa c'è un equilibrio mondiale diverso quindi certe cose che noi prima facevamo ne possiamo fare più se qualcuno pensa che si torna ad avere i fasonisti di abbigliamento ci stanno più perché ci stanno anche più le persone che stanno cucire perché tra me i cinesi oppure se qualcuno pensa che dice che deve tornare il finanziamento ci sarà anzi abbiamo tanti debiti quindi dovremo pagare sempre più tasse per farne fronte cioè quindi o tra l'altro quanti debiti abbiamo io non l'ho mai saputo ma non lo sappiamo figuriamo non ce lo diranno mai forse non ce lo diranno ma secondo me anche quella è una strumentazione è un qualcosa che appartiene a un elemento strategico tanto più tengono in mano il debito del mondo in pochi e tanto più tengono il mondo sotto scacco insomma e quindi sono delle realtà diverse cioè e quindi è diverso è diverso e quindi chi è conscio di questo quindi affronta in maniera diversa da ieri chi dice ho fatto sempre così sarà scomparire quando vede grandissimi industriali a livello nazionale della valle questa gente che invece sulla politica crede tanto a tal punto da fondare un nuovo movimento e speriamo di intervistare della valle a giorni peraltro perché abbiamo chiesto autorizzazione al loro ufficio stampa lei che pensa viaggiano su altre sfere e sono irraggiungibili oppure fanno ricorso ad un sistema che non appartiene al nostro mondo penso che siano estremamente coraggiosi perché se credono in qualcosa e lo vogliono portare avanti è bene per loro io ritengo che ognuno dovrebbe fare il suo mestiere però insomma con questo non significa che insomma ecco ma invece certo quando io penso per esempio che ne so a Fiat dieci anni fa e Fiat oggi lì è solato il cappello perché sicuramente ha avuto la capacità in dieci anni di rendere di internazionalizzarsi di avere dei prodotti eccellenti su determinate nicchie di mercato di trasformare realmente tanto è vero che oggi è tornato ad assumere facendo una strategia partendo da un'azione di forza che fu condivisa dalla maggioranza dei dipendenti Fiat però signori qui bisogna ridurre i costi non è facile farlo alla Fiat è quasi impossibile lui c'è riuscito esatto e quindi ha portato oggi ad avere dei risultati straordinari certo tornando al mondo sindacale soprattutto la FIOM e company che alcuni si salvano alcuni meno secondo me forse come in ogni settore come in ogni settore non si può fare mai tutto nel buon faccio se invece seguiva quel tipo di sicuramente oggi a Melfi ci sarebbe stato solamente un grosso disastro senza nessuna rinascita non mi ha detto che farà in questi quattro minuti finali il suo gruppo in quest'anno di nuovo se qualcosa di nuovo ci sarà perché se l'innovazione continuerà ad essere tale ci saranno altre di investire adesso stiamo facendo degli investimenti estremamente importanti in termini di nuove tecnologie da posizionare in interno stabilimento quindi nuove attrezzature nuove tecnologie per poter dare sempre prodotti più sofisticati prodotti più innovativi e quindi avere sempre più possibilità di evolvere cioè per noi il prodotto che facciamo oggi appartiene già al futuro e quindi questa continua evoluzione la facciamo inserendo dentro nuovi progettisti inserendo dentro nuove tecnologie che ci permettono di fare prodotti diversi e andando a poter andare sempre più a fondo su nuovi mercati quest'anno stesso stiamo rifacendo tantissime fiere a livello internazionale abbiamo già l'anno scorso abbiamo messo in campo l'elevature che è praticamente un camion del circo in stile circense perché stiamo giocando sulla sicurezza la tua azienda non è un circo tra l'altro una pubblicità che ha vinto il primo premio a parola di impresa al sole 24 ore l'anno scorso stiamo andando avanti su questa logica di promuovere i prodotti nel miglior modo possibile e di innovarli continuamente per noi ogni mese noi cataloghi che facciamo dopo 6-4 mesi sono diventati già vecchi perché abbiamo nuove cose da mettere mi anticipa nulla di particolare qualcosa che è in itinere che magari non è ancora no non ci sono diciamo che abbiamo avuto grosse innovazioni l'anno scorso proprio o due anni fa con la linea leva la scala che si solleva e oggi noi stiamo andando avanti sempre più in quel progetto abbiamo diverse cosettine su cassetta che man mano ecco ha visto che qualcosina c'era però è normale che non me lo dica stiamo vedendo un filmato magari ci lasceremo con la messa in onda di queste immagini questa è l'altro si chiama 40 perché uno di quelli che mette proprio anima e corpo in questo settore il suo cognome è 40 allora gliel'abbiamo dedicata come tra l'altro a fine anno noi il pranzo di Natale lo facciamo dentro la nostra mensa dove ogni mattina c'è una signora che fa la spesa cucina cose genuine buone eccetera e con 5 euro a persona giorno prima secondo frutta e caffè complimenti con la cucina interna no col catering insomma cose quindi mangiano sicuramente sono trattati anche molto bene un orario di lavoro che permette di poter andare a casa alle 4 cominciando la mattina alle 7 e mezzo con l'interruzione di mezz'ora alcuni reparti un'ora massimo per il pasto in modo che andare a casa alle 4 significa anche chi vuole andare al mare va al mare quindi unire molto il concetto è unire l'esigenza del lavoratore con l'esigenza dell'azienda nel modo migliore possibile e questa è un altrettino è la nostra scala elettrica è un prodotto che l'anno scorso abbiamo presentato al 5 settembre abbiamo fatto una bella festa qui a Tortoreto per presentare questo e insomma io faccio televisione purtroppo da 30 anni dico purtroppo perché non mi piace il mio lavoro e a me il mio lavoro e se non piacesse non lo farei più mi piace da morire e lo continuerò a fare dico purtroppo perché 30 anni sono tanti di televisione e auspico ancora che bellissime realtà tipo la sua azienda riescano me lo permetta a comunicare meglio ancora di come fa con la rete e con quant'altro perché ritengo davvero che sia un bel modo anche per ridare fiato a chi sta perdendo la speranza di andare avanti perché stiamo dimostrando con i fatti che ci sono imprenditori come lei come suo fratello con il nome che portate che invece dicono che è possibile ancora fare l'esatto opposto bene la ringrazio la ringrazio per aver accettato il nostro invito e ringrazio anche chi Cristiana Di Giovanni per vostro conto ha diremato un comunicato stampa che ha creato i presupposti per farci questa chiacchierata vede ci stiamo modernizzando e utilizzando insomma delle figure professionali estremamente importanti che possono le manderemo il link di questa intervista che mi piacerà vedere nel suo sito se gradirà sicuramente grazie mille grazie per aver accettato il nostro invito 45 giri come ogni giorno tornerà puntuale in onda domani arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti